E' proprio, penso che è così, che è iniziata la storia dell'emigrazione sulla nave. Penso che la nave è stato proprio il mezzo di trasporto più usato dagli emigranti e potrei dire dalla mia famiglia per venire in America, in Nord America. Il primo a venire qua in questa terra fredda, che è il Canada, è stato il mio bisnonno. Lui è arrivato qua nel 1912, se non vado errato, proprio poco prima della Prima Guerra Mondiale. Nel 1950 è stata invece la volta di mio nonno Vincenzo. Dopo dieci anni ha chiamato il figlio, che sarebbe mio padre, Domenico, per venire pure, perché ha visto che aveva più opportunità qua, diciamo che là in Italia. Quindi, la nave, lui è venuto pure con la nave, mio padre è partito da Napoli come milioni di persone. Si partiva allora da Napoli. Ricordo il giorno che partì da Napoli Lasciando su quel molo l'allegria Gli amici, il mio paese, casa mia Gli amici, il mio paese, casa mia